Ciao ciao, eccoci per lo stretching dei mediani, andiamo a lavorare immediatamente senza perdere tempo, un esercizio di pochi minuti che allunga e porta un benessere immediato, andiamo, inspiro, porto le mani in alto, aggancio, faccio il pugno però, l'indice verso l'alto, allungo, allungo, allungo il possibile, muovo le dita di piedi, sciolgo la mano sinistra avanti, con lo sguardo seguo la mano sinistra, rimando in posizione per 3-4 respiri, poi risalgo, aggancio, ruoto verso il centro, allungo, muovo le dita di piedi, vado avanti con la mano destra, con lo sguardo seguo la mano destra, sempre 3-4 respiri, risalgo, aggancio, ruoto verso il centro, allungo, allungo in alto e spiego un po' indietro, muovo le dita di piedi, e rilasso, e questo è il primo, allargiamo i piedi, risaliamo, aggancio, allungo, in alto e indietro, muovo le dita di piedi, ruoto a sinistra, mantenendo sempre le mani unite, in questo modo, scendo, allungo, spingo le braccia in avanti e il tronco indietro, per 3-4 respiri, respiri, aggancio, risalgo, ruoto verso il centro, allungo, in alto e poi indietro, muovo le dita di piedi, ruoto a destra, scivolo, davanti al tronco, spingo, i bracci in avanti, tronco indietro, sempre 3-4 respiri, aggancio, risalgo, ruoto verso il centro, allungo, muovo le dita di piedi, e rilasso, andiamo al terzo, risalgo, aggancio, allungo, spingo in alto e indietro, muovo le dita di piedi, ruoto a sinistra, scivolo davanti al tronco, come prima, spingo in avanti, tronco indietro, lentamente, ruoto, tutt'attorno, arrivare al massimo a destra, aggancio, risalgo, ruoto verso il centro, allungo, in alto e indietro, muovo le dita di piedi, e rilasso, continuiamo, in alto, aggancio, allungo, in alto e indietro, muovo le dita di piedi, ruoto a destra, scivolo davanti al tronco, spingo, braccio in avanti, tronco indietro, ruoto tutt'attorno, lentamente, arrivo al massimo a sinistra, aggancio, risalgo, ruoto verso il centro, allungo, allungo in alto, spingo le braccia in alto e spingo le dita di piedi, e rilasso, muovo le dita di piedi, e lo scarico del piede di piedi, di nuovo, risalgo, aggancio, allungo, spingo in alto e indietro, muovo le dita di piedi, fletto il ginocchio destro, con la mano destra, porto le dita sul dorso del piede sinistro, con lo sguardo seguo la mano sinistra che sta in alto, rimango per 2-3 respiri, risalgo, aggancio, ruoto verso il centro, allungo, in alto, indietro, muovo le dita di piedi, continuiamo, risalgo, aggancio, allungo, spingo in alto e indietro, muovo le dita di piedi, fletto il ginocchio sinistro, le dita della mano sinistra sul dorso del piede destro, con lo sguardo seguo la mano che sta in alto, 2-3 respiri, risalgo, aggancio, ruoto verso il centro, allungo, muovo le dita dei piedi, risalgo, aggancio, allungo, spingo in alto e indietro, muovo le dita dei piedi, scivolo davanti al tronco, fino ad arrivare con le mani a terra, rilasso tutta la testa, tutto il tronco, verso avanti, 3-4 respiri, se chi non arriva con le mani a terra, può fermarsi magari anche qua, volendo, l'importante è che i palmi sono rivolti verso terra, può essere in alto, l'importante è che i palmi verso terra, perché i palmi non hanno una rigida, ci andiamo a cercare il massimo della matematologia patogena, poi aggancio, salgo, allungo, spingo in alto e un po' indietro, allungo e indietro, muovo le dita dei piedi, e piano piano rilasso. Dopo questo esercizio, vedete che avete uno o due centimetri di piedi, alla prossima, ciao!